Risultato migliore delle attese per le vendite al dettaglio nel blocco della moneta unica, a febbraio sono aumentate dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 2,4% in confronto all'anno passato. La crescita della domanda in Spagna e soprattutto in Francia ha controbilanciato un indebolimento nella prima economia dell'eurozona, la Germania, dove le vendite sono calate dello 0,4% mensile.